La squadra mobile di Pesaro ha tratto in arresto una banda di giovani albanesi, tre uomini ed una donna, ritenuti essere gli autori dei furti pomeridiani avvenuti nell'ultima settimana in abitazioni di Pesaro, Fano e Marotta. L'indagine ha consentito di fermare i soggetti particolarmente attivi nel territorio grazie a due agenti della squadra che la sera del 20 gennaio scorso hanno soccorso una signora in via dei Susini a Pesaro che nel momento di rientrare in casa si era trovata di fronte due ladri, successivamente in fuga a bordo di una Mercedes con targa albanese che alla vista degli agenti ha accelerato riuscendo in un primo momento a dileguarsi. Identificati poco lontano, i due soggetti a bordo della vettura si mostravano una presunta coppia di fidanzati che hanno dichiarato alla mobile di non conoscere le strade di essersi persi. Le indagini hanno portato alla luce che i due sospettati erano complici dei due ladri fuggitivi e che aspettavano in macchina con il compito di recuperarli al termine del furto. All'interno dei cellulari dei soggetti erano presenti fotografie risalenti a mesi scorsi scattate in Lombardia di monili d'oro e orologi di pregio, oltre una fotografia che ritraeva il più giovane della banda con in pugno una pistola semi-automatica. Le indagini sono poi proseguite all'interno della camera di un residence di Rimini dove la coppia aveva preso alloggio dal momento del loro arrivo in Italia il giorno precedente. Ma la perlustrazione degli investigatori non ha portato nessun esito. Osservando costantemente il convitto è stata individuata una seconda autovettura in uso della banda, identificando poi gli altri due componenti del gruppo. Il 26 gennaio abbiamo avuto cognizione che loro erano appena rientrati all'interno di questo residence con l'area furtiva. Quindi abbiamo fatto un'immediata irruzione sorprendendoli proprio con l'area furtiva stesa sul tavolo che stavano dividendo e stavano controllando. Era l'area furtiva di un furto avvenuto a Marotta esattamente pochi minuti prima, giusto il tempo di rientrare su Rimini. A questa banda riteniamo di poter imputare cinque furti commessi a partire dal 20 gennaio e stiamo vedendo anche su altri episodi pregressi non solo interessanti la provincia di Pesaro ma anche la vicina provincia di Rimini. Il quartetto è stato fermato in flagranza e convalidato l'arresto ieri mattina dal giudice di Rimini, il quale ha disposto alla custodia in carcere e la trasmissione degli atti alla procura di Pesaro.